Buongiorno, bentrovati. Lunedì 13 marzo 2017, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che come sempre nel giorno in cui si ricorda San Rodrigo di Cordova, Santo della Chiesa Cattolica, noi iniziamo con le prime pagine del quotidiano Il Centro, le prime quattro edizioni del giornale che troverete oggi in edicola. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli principali che troveremo poi all'interno del giornale, gli argomenti trattati nel giornale di oggi. Si parla di condono delle tasse di corsa alla sanatoria, in una settimana 100 le richieste dei pescaresi per evitare sanzioni. E poi la fotonotizia più che mai emblematica per il Pescara, battuto ieri all'Adriatico per 3 a 1 dall'Udinese, per il Pescara è sempre più B, l'Udinese a vita facile e Sebastiani. Vedremo poi un estratto della conferenza stampa di ieri mattina tenuta dal presidente del Pescara che dice no all'offerta dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Vediamo anche le altre notizie per quanto riguarda sempre la prima pagina del centro, edizione di Pescara, Corte dei Conti, forte condannato per portale fantasma, deve 300 mila euro all'erario. E poi Bar nel Mirino, occupazione di suolo pubblico, c'è la stangata. Vediamo in basso l'inquinamento, stop la nuova scogliera, tramonta l'ipotesi per bloccare il deflusso del fiume in mare. E poi mercoledì a Roma si parla di concessioni balneari all'asta, in questo caso protestano i balneatori. Andiamo avanti, l'edizione di Chieti del centro, movida blindata nei pub allo scalo, Chieti la polizia presidia la zona del divertimento dopo le violenze delle ultime settimane. E poi si parla di basket, in questo caso con la Proger Chieti che già pensa al derby, KO però per i teatini a Treviso. Ora c'è Roseto, Volley, vittoria salvezza invece della SIECO, Ortona che dunque anche nel prossimo anno, nella prossima stagione, militerà nelle serie A2 maschile di Volley. E poi ospedale di Vasto, il nuovo Sampio punta sulla cura dell'ictus in basso. Calci e pugni dal rapinatore, i terribili attimi raccontati dalla titolare del bar a Filippone. E in un certo senso ci si rifà proprio al titolo principale che parla di movida blindata nei pub dello scalo, ma in questo caso questo fatto è accaduto a Chieti Alta. E poi Lanciano minacciò mogli amante, va a processo. Siamo all'edizione di Teramo, del centro, esenzioni ticket, i medici accusano, a Teramo le hanno solo gli sgomberati. Non è giusto, così è il caos. E poi per quanto riguarda anche in questo caso lo sport, come nell'edizione di Chieti e anche nell'edizione di Teramo si parla di basket e di serie A2 del Roseto. Roseto da playoff, grande prova di squadra dei rosetani che battono in casa il Mantova. E invece le cose sono andate male ieri, malissimo, al Teramo nel campionato di Lega Pro. Brutto Teramo perde di misura a Bergamo con l'Albino Leff. Teramo affonda, ora è ultimo, brutta prova e sconfitta sul campo della formazione bergamasca. E poi il calcio di promozione, discorso diverso per il Giulianova che vola a più 11, ormai l'eccellenza, la promozione nel campionato di eccellenza è a un passo. E poi tornando ai fatti di cronaca, l'articolo richiamo che troviamo di spalla che arriva da Santomero, detenzione di armi, assolto il capo dei vigili urbani. Chiudiamo con la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. L'avvocato Irti muore nel sonno, aveva 47 anni, figlio del giurista Natalino Cordoglio ad Avezzano per questa scomparsa davvero inattesa dell'avvocato Irti. E poi la fotonotizia che riguarda la festa azzurra all'Aquila, Little Rugby a 13, trascinata dai tifosi, travolge la Grecia. E poi la Roma Ostia, podisti di luco, derubati alla maratona in terra capitolina. In basso si torna all'Aquila, genitori sui banchi dei figli, la rivolta continua, clamorosa protesta alla riapertura del liceo Cotugno. E poi come a Chieti, anche all'Aquila si parla di movida violenta, risarcimento dopo 10 anni. E chiudiamo con la prima pagina dell'inserto, Abruzzo, del quotidiano Il Messaggero. Il titolo principale riguarda la tragedia di Rigopiano Lascia, infatti il PM che si stava occupando di questa tragedia avvenuta della valanga del 18 gennaio scorso. Da mercoledì a Pesaro la dottoressa Tedeschini assumerà l'incarico di procuratore. Il fascicolo sulla strage resta al collega Papalia. La procura senza vertice, il CSM accelera per la scelta del nuovo capo, del nuovo procuratore capo di Pescara. E poi restiamo a Pescara, caos auto allo stadio, multe rimozioni, il giallo del divieto. E poi il vescovo di Pescara, dice messa per i clochar, il vescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti. E poi andiamo a centro pagina, si parla della BPR, manco da 8 milioni di euro, risparmi in fumo, l'Aquila, clienti raggirati sotto inchiesta, un ex capo contabile, scattano i sequestri. E poi notte blindate, chieti, giro di vite sulla movida violenta, abbiamo visto anche dal quotidiano il centro. E poi ad Avezzano, in basso, donna violentata, autore individuato. Torniamo in alto per vedere invece i richiami che riguardano l'inserto dello sport. Si parte da sinistra, dalla serie a due di volley, la sieco vincente a Cantù al cardiopalmo. Come abbiamo visto, si tratta di una vittoria fondamentale per la permanenza nella seconda serie nazionale di pallavuolo maschile. E poi il basket di serie a due, Sharks Roseto da playoff con il Mantova, Proger, K.O. a Treviso. E abbiamo visto dei titoli letti in precedenza, che si pensa al derby che si avvicina per le due formazioni. E poi calcio, Pescara, K.O. e titoli di coda. Sebastiani rifiuta l'offerta dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Vedremo se oggi arriverà la risposta al no alla sua offerta, proprio dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Comunque ancora socio, seppur di minoranza, della società Bianca Azzurra. Abbiamo visto i titoli principali delle quattro edizioni del centro, della prima pagina dell'inserto, Abruzzo del messaggero Oginedicola. Come sempre, ora possiamo concentrarci sui titoli dei quotidiani nazionali. Partiamo dal quotidiano La Repubblica. Renzi, basta con il passato, volevano distruggere il PD. All'ingotto di Torino, l'Assemblea nazionale, parla l'ex premier, il piano dell'ex premier, mettere Pisapia in lista. Questo è l'obiettivo di Matteo Renzi. E poi, alta attenzione, fra Olanda e Turchia, l'ira di Erdogan nazisti. La pagherete dunque ai ferricorti i due paesi. E poi, vedete, di spalla il titolo che riguarda le indagini sugli sciacalli del terremoto, speculatori nel mirino. Di tre procure errani, il commissario del terremoto dice, saremo durissimi con i furbi. Siamo al Corriere della Sera. Erdogan, l'Olanda pagherà nuovi stop ai comizi turchi nelle città europee. L'ira del presidente della Turchia. E poi, vedete, in alto, il titolo che riguarda la politica. Renzi attacca giustizialisti e scissionisti. Orlando, niente avvisi di garanzia segreti. E poi, a centro pagina, un richiamo per lo sport. Lo vedete, vedete la foto che riguarda l'Inter. L'Inter che ha superato ieri a San Siro l'Atalanta per 7 a 1. Triplette di Icardi e Banega che vedete nella foto. L'Inter riprende a correre e nel derby tutto nero azzurro. Dunque, ha avuto vita facile la formazione milanese. Tra l'altro, a proposito dell'Atalanta, in un certo senso, ieri umiliata da questo 7 a 1 con l'Inter. L'Atalanta sarà il prossimo avversario del Pescara domenica prossima allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Siamo al messaggero. Renzi sfida il Movimento 5 Stelle sulla giustizia. L'ex premier ai grillini. Noi garantisti i corraggi. Rinunciate all'immunità e affrontate le querele. E poi, centro pagina, tra Olanda e Turchia. Attenzione alle stelle per i comizi negati. E poi il calcio. In questo caso, il richiamo riguarda la Roma. Visto che il messaggero quotidiano è capitolino. La Roma riparte di slancio. 3 a 0 al Palermo. Siamo al fatto quotidiano. Nessuno li può giudicare. All'ingotto processione di democratici per omaggiare l'indagato. Lotti scrive il fatto quotidiano. La stampa di Torino. Primaria PD. La sfida inizia sui migranti. Orlando, candidato alla segreteria, dice torno in piazza per loro. Minniti. La sicurezza, dice il ministro, è di sinistra. E poi la foto che troviamo in taglio alto sulla stampa. Il petrolio nelle mani di Trump. Il prezzo continua a calare. L'America punta all'indipendenza energetica. Il tempo di Roma. Altro giornale capitolino. Sindaco sinistro. Ora ripaga i danni. Da destra. A sinistra tutti addosso al rivoluzionario De Magistris, il sindaco di Napoli. La guerra con Salvini e la guerriglia. Napoli distrutta. E anche colpa sua, scrive il Tempo. In alto, il richiamo anche in questo caso per la Roma. La Roma che si sblocca a Palermo. 3 a 0 per la squadra di Spalletti. Il gazzettino di Venezia. Giustizia. La sfida di Renzi al Movimento 5 Stelle, scrive il quotidiano veneziano. Poi il giornale. Libertà di teppismo. Sfasciano le città, ma i giudici li lasciano liberi. I teppisti di Napoli stiano tranquilli, scrive il giornale. Pene lievi per chi devasta e picchia i poliziotti. Poi anche sul giornale ritroviamo più in basso la notizia che riguarda la politica escara. Tutta Europa contro la Turchia ha scoperto il ricatto islamista. E siamo al quotidiano libero. Altro quotidiano di area centrodestra. Il mercato degli schiavi, chi fa i soldi con gli immigrati. Questo è il titolo principale del quotidiano libero. E poi a centropagine vedete la prova che il ristoratore, prima di sparare, è stato malmenato. Vediamo la foto del ristoratore che ha sparato a questo giovane romeno che si era introdotto in una sua pertinenza. Cercavano di rubarmi il fucile, ho avuto paura. Sopra dormivano i miei nipotini. E poi il titolo, sempre di libero. E ora cambiate la legge sulla legittima difesa. Andiamo avanti. Siamo al mattino di Napoli. Renzi attacca De Magistris. L'ex premier all'ingotto. Alleanze no ai modelli del passato. Giustizia sfida ai grillini. In alto, in signe da favola, il nuovo leader per il Napoli. Vittoria con il Crotone. Hanno perso tutte e quattro le squadre che occupano gli ultimi quattro posti della classifica. In Serie A, ovvero Pescara, Crotone, Palermo ed Empoli. La Gazzetta del Mezzogiorno, si parla PD, la Xiella della Discordia. Renzi parlano di ulivo, quelli che sono esperti del batterio killer. E poi Emiliano, così sbeffeggia la Puglia. Bellanova, la Puglia. Non c'entra la Xiella e il batterio che negli anni passati ha distrutto tante piante di ulivo. E dunque il titolo gioca proprio sull'ulivo e dunque sul partito, sul gruppo politico di centro-sinistra. Andiamo ancora avanti. Siamo al secolo XIX. Migranti. Orlando Sfidarenzi, il ministro, in piazza per difenderli. Serracchiani, la gente, ha paura. Il secolo XIX era dunque l'ultimo giornale che prendiamo in esame per quanto concerne la rassegna stampa nazionale. Possiamo ora andare a vedere, a proposito di rassegna stampa nazionale, anche i titoli dei quotidiani sportivi oggi in edicola. E poi torneremo alle vicende di casa nostra, andando nuovamente a dare uno sguardo alle pagine interne del centro e del messaggero. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. I Magnifici 7. Standing Ovation per l'Inter. 7-1 all'Atalanta, il titolo ovviamente d'obbligo per questa vittoria con punteggio tennistico dell'Inter di Pioli sull'Atalanta, che era fino a ieri ma resta in un certo senso comunque una delle realtà migliori del nostro campionato, del campionato di Serie A. Poi a centro pagina, torniamo sulla partita, si torna, lo fa la Gazzetta sulla partita di venerdì scorso, Juventus-Milan, Milan furibondo sugli scudetti Juve, la scritta, l'Adri. Dunque ancora polemiche per questo rigore dato dall'arbitro al 95esimo, quando la partita era praticamente conclusa. Corriere dello Sport, Inter mostruosa, Atalanta annichilita 7-1, Standing prepara e applaude, prepara un mercato da 150 milioni. Poi in alto il Napoli riparte, attacca la Juventus, di spalla la Roma s'accende, travolto il Palermo. E siamo infine al quotidiano tutto sport, esclusiva con il re di Masterchef, Champions Juve e Cucinerò per tutti. Parla Valerio Braschi, giovane cuoco e campione dei talent show di Sky. Poi in basso ci sono i richiami alle partite giocate ieri, Pioli 7 gol per vedere l'Europa, Icardi Tris. Poi festa viola, ma i tifosi contestano il tecnico Paolo Sosa. Tra Roma e Napoli il duello continua per il secondo posto, dunque probabilmente continuerà fino all'ultima giornata di campionato. Lasciamo anche i titoli principali dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Possiamo, come detto, tornare ai fatti di casa nostra, vedere le pagine interne del quotidiano Il Centro, come sempre, nella seconda parte. Poi parleremo di sport. Fermo ieri il campionato di Serie D, ci concentreremo ancora di più sulla difficilissima situazione che stanno vivendo due nostre formazioni, il Pescara in Serie A ultimo ed il Teramo ultimo nel campionato di Lega Pro. Vediamo le pagine interne del centro. Si parla anche in chiave locale di vigilanza urbana, aspettando i sindaci sceriffo. Ecco quanto spendono i comuni abruzzesi per la polizia locale. La classifica di Open Police relativa al 2014. Tre centri in provincia di Chieti, sui primi tre gradini del podio tra i copoluoghi. Pescara doppia Teramo, che però incassa di più, tanti gli enti fermi a zero euro. Vedete lo specchietto nella parte alta della pagina, la spesa delle amministrazioni abruzzesi per la polizia locale. Prima Pescara 61,45, Chieti 31,13, L'Aquila 32,44, Teramo 28,69. E poi in basso, vita da vigile, parla il Maggiore Agostinone. Dovevamo occuparci di viabilità, ma i compiti sono sempre di più. Proseguiamo. Ancora un'altra pagina, sempre relativa a questo argomento, alla spesa dei comuni abruzzesi e degli enti per la vigilanza locale. Nessuno sprece con solo vigile per 130 abitanti. Pietra Ferrazzana, record, con 334 euro. Poi Carpineto, eccellenza, municipi a zero euro, enti senza fondi. In molti devono rinunciare al corpo della polizia municipale. Poi in basso, il caso della Marsica, pochi agenti per 35 municipi, molte zone restano scoperte. Poi, come abbiamo visto, per quanto riguarda le spese, Pescara stacca tutti. Teramo e Ultime viene doppiata proprio per le spese di polizia locale da Pescara. Sinistra in movimento, si parla qui in chiave nazionale dell'Assemblea a Torino del PD con Renzi che punta sull'unità e dice Il PD è solido. Andiamo avanti per arrivare alle pagine di cronaca locale del centro. Ecco qui, partiamo dalla provincia di Pescara, dalle cronache di Pescara e provincia. Tasse non pagate, ritroviamo l'argomento che rappresenta l'apertura della prima pagina. Condono in sette giorni, già cento domande. Sono tantissime le richieste per accedere alla sanatoria per i tributi locali. Non versati negli ultimi 16 anni, il modulo va presentato entro il 2 di maggio. E poi, Stangata per due bar, richieste di pagamento da 80 mila euro per la Consap Evasa. E poi, Mare da salvare, stoppa la nuova scogliera contro l'inquinamento. Sottamonta, l'ipotesi di costruire un pennello perpendicolare al litorale per bloccare il deflusso del fiume, rispunta il progetto delle barriere mobili. E poi, oggi, prime analisi sul litorale per stabilire i tratti balneabili al via, i controlli dell'arta a Pescara. E poi, strade, giro di vite contro i rattoppi selvaggi. Il Comune fissa nuove regole per le ditte che eseguono interventi e non sistemano la pavimentazione. In basso, si parla dell'accordo per la Filanda, che resta in ebilico. Oggi la delibera in Consiglio. Un emendamento stravolge il progetto per l'opificio. Andiamo avanti, siamo alla pagina ancora di Pescara, dell'area metropolitana. In alto, proposta di Aliano per Montesilvano. Ecco il bando per rilanciare il turismo. Bando presentato dal consigliere di centrodestra, Antony Aliano. E poi, Balneatore riparte la protesta. Mercoledì tutti a Roma contro la messa all'asta delle concessioni. Pullman partiranno anche da Montesilvano. E poi a centro pagina, Lega Ambiente Ferrovie, il treno verde oggi in stazione a Pescara. Ci sarà anche una mostra sul riciclo. Siamo alla pagina di Chieti, del centro. Movida blindata, la polizia presidia la notte allo scalo. Chieti sei pattuglie sorvegliano i pub, verifiche su un centinaio di ragazzi. La risposta del questore agli episodi di violenza delle ultime settimane. Poi Lanciano minacciò moglie ed amante subito a processo. E poi dopo la rapina o paura stare nel bar, parla la titolare di un bar di Chieti presa a calci e pugni. A Filippone una coppia scopre un intruso in camera. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal centro. A Vezzano, in questo caso, dramma in casa Irti. Muore nel sonno l'avvocato Nicola Irti, figlio di Natalino. Aveva 47 anni. Mercoledì scorso aveva organizzato con Rosita Celentano uno spettacolo di solidarietà. Al teatro dei Marsi, trovato dal cameriere nell'abitazione di Roma. Era vicepresidente della fondazione di famiglia. In basso, attirata in trappola, mi hanno violentata. A Vezzano una trentenne denuncia l'aggressione. La polizia indaga sulla veridicità del racconto. Siamo a Teramo, scontro fra comune e regione. L'ufficio ricostruzione è già operativo. Il consigliere regionale Monticelli replica a fracassa. Fa polemica politica fornendo dati falsi. Le pratiche arrivate sono solo 314 e non 2.500. E poi la storia di questo imprenditore Teramano, troviamo sempre qui sul centro, che è in Albania per insegnare alle popolazioni locali i segreti della pelletteria. Ormai in tanti aprono aziende anche fuori dal nostro paese. E poi assolto il capo dei vigili urbani di Sant'Omero, era accusato di tenere armi non in dotazione nell'armadietto del comando. Il comune lo sospese. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport. Dunque possiamo lasciare per il momento il centro. Andare a vedere in questo caso invece le pagine del messaggero. Ovviamente relativamente all'inserto abruzzo del quotidiano che troverete oggi in edicolo. Abbiamo già visto la prima pagina. Andiamo a vedere le pagine interne. Anche in questo caso partiamo da Pescara, procura della Repubblica di Pescara, senza vertice. Tra due giorni ci sarà l'addio della dottoressa Tedeschini, il procuratore reggente in partenza per Pesaro, vacante. Anche il posto di aggiunto. La guida passa al PM Gennaro Varone e poi sosta autorizzata dal Pescara Calcio, ma non dai vigili. Rimozioni e multe ieri a Pescara, prima e durante la partita di campionato con l'Udinese. E poi in basso Alba Parietti, madrina del Palafiere al Serr Food 2017. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal messaggero impiegato infedele alla BPR. Si indaga su un maxiammanco per anni, scrive il messaggero, avrebbe raggirato i clienti. Si ipotizza un giro di soldi, milionario, l'uomo è stato ascoltato dai magistrati, già sequestrati, documenti e computer. E poi pompiere ferito alle anime sante, c'è la prescrizione per questa vicenda. E poi Alpini, l'Assemblea dell'Associazione Nazionale Alpini dell'ANA, ha eletto l'Aquilano Pietro D'Alfonso al vertice regionale. Ne basso in basso, un richiamo che riguarda il rugby di serie B con il Paganica KO in Sicilia sul campo del Caltanisetta. Tra le donne, le belve neroverdi hanno ceduto per 18 a 10 sul campo del Cogoleto. Proseguiamo, siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, sempre dal messaggero donna violentata. Vogliamo giustizia, la rabbia dei familiari. Siamo nella Marsica ad Avezzano dopo l'aggressione avvenuta fra venerdì e sabato nell'Aulamagna in costruzione del liceo scientifico. Già individuato il marocchino responsabile del brutale assalto a una trentenne. La polizia lo sta cercando in tutta la Marsica. E poi Sulmona, Asl, in attesa da un anno, una famiglia denuncia. E poi treni, pantografo rotto, ferrovia per Roma, out per quattro ore. Ancora disagi per i pendolari dell'area marsicana. Torniamo a Sulmona, area camper. I cantieri finalmente si aprono, mentre ad Avezzano Forza Italia senza simbolo con Maurizio Bianchini che si dimette. Siamo alla pagina di Chieti, sempre del messaggero. Maxi controlli nei locali dopo le notti di violenza. Vediamo anche il richiamo di questa notizia. In strada scendono 15 poliziotti per un sabato di servizio straordinario. Identificati, 73 giovani clienti dei pub allo scalo. I blitz in quattro attività. E poi di spalla ci spostiamo a Lanciano. Coloriamo Lanciano, così cambierà la città. È partita l'iniziativa di riqualificazione cromatica di una prima porzione del centro storico della città frentana. In basso, faccia a faccia con il ladro, paura a Filippone. In questo caso con questa notizia di cronaca. Torniamo a Chieti, mentre a Vasto Paletti, al posto delle fioriere, chiusa ancora via Naumachia. Siamo alla pagina di Teramo del messaggero. Post terremoto, pratiche sospese in attesa che l'ufficio entri in azione. La direzione dice che sono oltre 2.500 le richieste di sopralluogo che devono essere attuate. E poi Giulianova. Abbiamo fiducia in Cameli, ma oggi bisogna decidere. I genitori degli studenti della scuola Pagliaccetti non torneranno altri ritardi sulla location. E poi ancora Giulianova, concorso fotografico sulle arti e mestieri. E poi si parla di scuola, perché è arrivata la data dei 100 giorni all'esame. Tutti a San Gabriele ci sarà oggi proprio la tradizionale visita degli studenti che svolgeranno, che faranno gli esami di maturità tra qualche tempo, proprio a San Gabriele, per rendere omaggio al Santo. E siamo a Santomero, tutta la vallata del Vibrata in difesa del nostro comio. Nessuno ha preso in considerazione il parere dell'unione fondamentale in questi casi. E poi a Pagliare del Tronto, esecue di Emidio e Antonella. I figli incensano le bare, parliamo dei funerali dei coniugi morti giovedì scorso, mentre transitavano in auto lungo l'autostrada A14, quando è crollato il ponte proprio fra i caselli di Loreto e Ancona Nord dell'autostrada A14. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport, dunque possiamo fare un break, fermarci per qualche attimo, andremo a vedere le previsioni del tempo del nostro meteorologo Luca Mennella, poi torneremo in studio per la seconda parte che dedicheremo interamente allo sport. Eccoci qui di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Come ogni lunedì ci concentriamo sulle vicende sportive, soprattutto parlando di calcio, ma anche di pallacanestro, di pallavolo e di rugby. Partiamo dal calcio, dalle pagine sportive del centro, per vedere i titoli che riguardano il Pescara. Pescara ha altri tre passi verso la B con l'Udinese terza sconfitta di fila per Zeman. Sebastiani dice non vendo il club a Iannascoli, sprofondo bianca-azzurro, ormai svanite le residue speranze di restare in Serie A. L'Udinese torna a casa con il massimo risultato ottenuto con il minimo sforzo. Il Pescara regge 45 minuti, addio, sogni, salvezza. Allora possiamo andare a vedere subito il primo servizio che riguarda proprio la cronaca della partita, il servizio su questa vittoria meritata, tutto sommato, dell'Udinese e di Gilgi del Neri sul Pescara per 3-1. Per Zemanlandia bisognerà forse aspettare la prossima stagione in Serie B. Oggi dopo l'illusione della gara con il Genoa per il Pescara i risultati continuano ad essere negativi, così come sotto la gestione Oddo. Svanito in 90 minuti l'effetto Zeman per il Pescara, il finale di stagione rischia di tramutarsi in un calvario per l'Udinese. È stato gioco facile violare l'Adriatico per 3-1 conquistando la nona vittoria stagionale e salendo a 33 punti in classifica. Poche ore dopo lo stop alla trattativa con l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli da parte del presidente del Pescara Daniele Sebastiani per la cessione del 70% delle quote sociali, i bianca-azzurri hanno rimediato l'ennesimo stop avvicinando così la Serie B. I bianca-azzurri senza i soliti lungodeggenti presentano in difesa Bovo al posto dello squalificato Goda, forfe anche di Caprari sostituito da Mitriza tra i fiulani, Assenti, Faraoni, Felipe e Fofanà. Si gioca davanti a 10.000 spettatori con la curva nord vuota al centro per la nota protesta degli ultra. Pronti via è al primo e Alfredson dai 20 metri a mettere sopra la traversa della porta difesa da Bizzarri. Al settimo si infortuna Stendardo con una contusione costretto a lasciare il campo a Michele Fornasier. Al dodicesimo Benali in area scarica addosso ad un difensore dell'Udinese per il Pescara. Si vede che non è la domenica giusta. I bianca-azzurri premono anche se in maniera disordinata creando qualche mischia pericolosa in area friulana ma nulla più. E come spesso accade si ritrovano ancora una volta sotto visto che al ventesimo Zapata con uno stacco imperioso di testa sul corner calciato da Ianto regala alla squadra di Del Neri il gol del vantaggio. La formazione di Zeeman accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a creare azioni pericolose. Alla mezz'ora c'è un guizzo di Benali che crossa per Cerri che colpisce di testa però centralmente. Al trentaduesimo di otto occasione per Mitriza chiama alla respinta con i piedi il portiere friulano. Passa qualche secondo e Cerri di testa mette alle spalle di Carnesis quando è però in posizione di fuorigioco. La gara è piacevole con una opportunità friulana al trentottesimo con Badu che chiama al salvataggio in calcio d'angolo Albano Bizzarri. Nella ripresa il Pescara si ripresenta in campo con Muntari al posto di uno Paco Verre ed è proprio l'ex milanista al quinto a causare la punizione che poi permette all'Udinese di raddoppiare con uno schema sul punizione di Alfredson che serve i Ancto e con un diagonale Beffa Bizzarri per il 2-0. Passano altri 5 minuti e Terro realizza i Lettriss in area bianca-azzurra con la palla toccata da Bovo ma in maniera probabilmente ininfluente. Gara finita così con oltre mezz'ora di anticipo. Al diciottesimo infatti i friulani si rendono ancora pericolosi con un tiro di Badu. Al ventisettesimo si vede invece la prima azione offensiva della ripresa degli abruzzesi con un tiro del neo entrato Castanos che termina di poco fuori. Imitato poi al trentunesimo da Cerri che mette fuori dello specchio della porta dopo una indecisione di Carnozis che si infortuna e lascia il posto a scuffè e deve incassare poco dopo al trentottesimo il gol abruzzese di Muntari. Due minuti dopo Iancto fallisce in controvie del poker a suggerlare la meritata vittoria friulana. E per il Pescara domenica prossima a Bergamo ci sarà da soffrire con un'Atalanta ferita dal 7 a 1 con l'Inter. E' Pescara che domenica prossima giocherà proprio in casa della formazione orobica battuta per 7 a 1 a Milano. Ma restiamo al Pescara perché ieri c'è stato anche all'esterno dello stadio anche dei problemi. Ci sono stati per multe e rimozioni, polemica tra l'altro tra il Pescara Calcio e i vigili urbani portate via le auto agli ospiti del club. Sorpresa per procuratori addetti ai lavori al termine della partita. Macchine rimosse e multate davanti al circolo tennis per divieto di sosta. Il segretario generale del Pescara Gramenzi dice gestiamo quell'area in base al verbale del GOS stilato. Inizio stagione il maggiore Agostinone della Polizia Municipale risponde, lì nessuno è autorizzato a parcheggiare. Utopia Boema, il tecnico di Praga non demorde. La Serie B ormai è un passo, non ditelo a Zeman che dice ci credo l'allenatore del Pescara. La matematica non ci condanna, lottiamo. E poi in basso Bovo alza le braccia, c'è poco da dire. E poi nell'altra pagina il rifiuto di Sebastiani, no ai Annascoli, la trattativa è finita. E poi all'Adriatico, presente ieri Pianierelli, ex portiere del Pescara e oggi scout della formazione friulana. Siamo alla pagina che riguarda le pagelle dei Biancazzurri. Possiamo andare a vedere i voti che il centro ha assegnato ai giocatori del Pescara. Bizzarri 5,5, Zampano 6, Stendardo senza voto, in campo solo 7 minuti. Bovo 5, Biraghi 5,5, Memusciano 6, Bruno 5,5, Verre 5, Benali 5, Cerri 5,5, Mitriza 5,5, Fornasier 5,5, Montari 6, Castanos 5,5. Andiamo ancora avanti, questa è la doppia pagina che riguarda le altre partite di Serie A. Il 7-1 dell'Inter sull'Atalanta, il 3-0 vedete qua in basso del Napoli sul Crotone. Poi la Roma che passa per 3-0 a Palermo e la sconfitta del Sassuolo in casa con il Bologna. Questo è un titolo che riguarda proprio anche noi abruzzesi con il Di Francesco Figlio che batte il padre Eusebio. La rete vittoria, il gol vittoria dei bolognesi è stato realizzato da destro. Vedete che in questa foto Di Francesco chiede il pallone al papà tecnico della formazione emiliana del Sassuolo. E poi in basso i servizi sulle altre partite. Chievo che batte senza problemi e infligge un severo poker all'Empoli, 4-0 il risultato finale. Vittoria della Fiorentina per 1-0 sul Cagliari. Questa sera il posticipo tra Lazio e Torino. Possiamo andare a vedere anche le pagine del Messaggero sulla gara tra Pescara e Udinese. Pescara sempre più giù, questo è il titolo principale. Anche l'Udinese passeggia all'Adriatico, 3-1 il finale. Biancazzurri condannati dalle solite palle inattive. E poi di spalla il titolo con le interviste del 91esimo. Ieri è prima partita per l'ex torinista dal primo minuto, serve ritrovare subito gli stimoli. Poi in basso la notizia del giorno, ieri che ha anche un po' fatto passare in secondo piano l'ennesima sconfitta sul campo della scuola di Zeman. Perché in mattinata, due ore prima della partita, c'era stata la conferenza stampa del presidente Sebastiani per annunciare lo stop alla trattativa con l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Sebastiani rifiuta l'offerta e dice non svendo la società Iannascoli, solo il nostro vivaio vale tutta la sua offerta. Non abbiamo debiti, anzi siamo una società modello. Allora possiamo andare ad ascoltare e a vedere uno stralcio della conferenza stampa che aveva tenuto ieri mattina a Pescara il presidente Biancazzurro. Daniele Sebastiani. L'offerta che è stata fatta alla Pescara Calcio, o meglio ai soci della Pescara Calcio, è un'offerta che al momento riguarda, alla condizione attuale, il 70% delle quote ha 3 milioni di euro. Punto. Non ci sono altre situazioni. I bonus che sono stati messi, evidenziati dal socio Iannascoli, sono dei bonus che non attengono a quello che è stato fatto, a quello che magari potrebbe essere uno sviluppo di quello che è stato fatto, ma attengono, si chiamano condizioni potestative, dove una persona, è come se io domani mattina prendo un giocatore e gli dico ti do un milione di euro in un anno, se poi io faccio 6 al Super e nell'8 e te ne do un'altra 300. Quindi è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Per cui le condizioni dei bonus sono riferite al lavoro che lui dovrebbe fare nei successivi due anni e che noi dovremmo subire, perché sostanzialmente se lui sarà bravissimo nel fare quello che dice e allora vuol dire che i bonus li pagherà la Pescara Calcio, perché se va in Serie A o rimane in Serie A i soldi li prenderà dalla Pescara Calcio. Se non succederà, perché nel calcio può anche non succedere, noi i bonus non li vedremo. Quindi sono cose sulle quali nemmeno ragionare, perché sono veramente fuori da ogni contesto. Quindi l'incontro di questa mattina è per dire che noi abbiamo un'offerta reale, che equivale a dire, perché l'altra offerta è condizionata alla permanenza in Serie A del Pescara in questa stagione, lo ha scritto lui, non l'ho detto io, Premesso, non vi consegno e non vi do l'offerta perché c'è un rapporto di riservatezza tra i legali che è giusto mantenere e che è giusto rispettare. Poi se lui vorrà, magari come ha fatto in precedenza dove vi ha mandato la Pescara, potrebbe mandarvi anche l'offerta e così avrete modo di leggerla direttamente. Quindi noi non siamo assolutamente interessati a un'offerta di questo tipo, perché come voi ben capite il Pescara, penso che anche solo il settore giovanile abbia il valore dell'offerta di Annascoli e soprattutto l'altra cosa che mi ha dato molto fastidio è ascoltare che lo stesso, non evidenziandolo nella lettera, ritenga di doversi accollare i 10 milioni di debito. Allora, intanto il Pescara questi 10 milioni di debito non li ha. Due, la sua valutazione, quindi la sua offerta è frutto della lettura del bilancio, quindi nel bilancio ci sono debiti e crediti, quindi se si accolla un debito si accolla anche un credito. Per cui bisogna chiarirle bene queste cose. Vedete, io a differenza magari di qualcun altro che farà il manager, che farà qualche altra cosa, io vivo di conti e quindi da questo punto di vista difficilmente mi si può prendere in castagna. bisogna evitare di far mandare in giro il fatto che questa società, cioè che questa maggioranza, sta rifiutando 19 milioni di euro, perché questo è passato, che Daniele Sebastiani insieme ai soci di maggioranza hanno rifiutato 19 milioni di euro, quindi i 6 milioni, i 9 milioni che lui dice di aver offerto in caso di serie A, che non sono 9, e i 10 milioni di accollo di debiti. Noi abbiamo un debito tributario che conoscono tutti, che stiamo pagando regolarmente con cadenza trimestrale e che mi auguro di togliere il prima possibile, perché quel debito pesa solo sulle spalle del sottoscritto e nessuna traccia c'è nella sua offerta di voler sostituire quella posizione dei debitori. Quindi stiamo parlando di aria fritta, però l'incontro di oggi è per dire per me l'operazione vendita delle quote a Danilo Giannascoli si chiude qui, non sono interessato e non lo sarò più. Vi prego, ma molto sinceramente, di non parlarmi più di cessione del Pescara, perché io non vi risponderò più a queste domande. E queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Vedremo se oggi ci sarà la risposta di Giannascoli. Torniamo al messaggero per chiudere il discorso Pescara. Zeman meglio noi, risultato bugiardo. Poi parla il difensore Fornasier, paghiamo la minima disattenzione. In basso del neri, tecnico della formazione friulana, non era facile e il Pescara non mollerà. Sempre su questa pagina troviamo anche un articolo che riguarda il calcio a 5. Acqua e sapone servono punti oggi a Fiano Romano. I ragazzi di Antonio Ricci devono blindare la terza posizione e cercare la vittoria contro la Lazio. Siamo alla pagina e all'argomento Teramo, pagina relativa alla Lega Pro, con il Teramo a picco. Brutta sconfitta a Bergamo con l'Albino Leff, società infuriata. Scacchioli, direttore generale, dice che Ugo Lotti resta. Si cambia per la squadra e poi parla proprio il tecnico che dice per salvarci. Serve più incisività. Vediamo anche dalle pagine del centro i commenti, le reazioni alla sconfitta dei Biancorossi contro la formazione della Val Seriana. Sempre il solito Teramo, giochicchia un tempo, poi prende gol e affonda. E come detto la società è furiosa, lo vedete in questo articolo nell'altra pagina in basso, e annulla il lunedì di riposo. Sempre Scacchioli dice che serve un impatto diverso con questi giocatori. Non hanno il minimo mordente. Allora possiamo andare a vedere il servizio sulla gara giocata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, a cura del nostro inviato Jacopo Forcella. Il Teramo si arrende di nuovo per l'ennesima volta all'ennesimo avversario, questa volta alle fattezze di un albino Leff ordinato, composto, che sta bene in campo e senza neppure strafare riesce a portarsi a casa tre punti che servono per la classifica. Quella dei Biancorossi ora invece è davvero preoccupante, al di là dell'ultimo posto, perché fatto salvo qualche guizzo nel primo tempo e con Nordi, che non deve mai dannarsi l'anima per disinnescarlo, il diavolo si consegna ai Bergamaschi con una pochezza imbarazzante. E dire che questo era l'inizio di un trittico determinante per la squadra di Ugolotti, che schiera più o meno la formazione standard, fatto salvo che è disqualificato, Scipioni va sull'esterno destro, Amadio e non Carraro, prende le chiavi della mediana, mentre Barbuti è preferito a Tempesti. Dunque nessuna sorpresa, ma nemmeno alcuna emozione, in un primo tempo che regala solo un destro colante di spighe al diciottesimo e poco altro. Ci si aspetterebbe qualcosa in più nella ripresa, ma l'avvio è shock per il Teramo, punizione di Loviso calibrata sulla testa di Edoardo Scrosta, che sale più in alto di tutti e trafigge Narciso. Chi si attende alla reazione dell'undici di Ugolotti rimane deluso, nonostante gli inserimenti di Fratangelo per Scipioni, con il relativo cambio di modulo, Ilari e Tempesti. La ripresa concede uno spettacolo identico a quello già intravisto nei primi 45 minuti. Poco, davvero troppo poco, specie nella domenica in cui il Fano rulla alla Ferralpi Salò e il Mantova ciuffa il Parma nel finale. Tutto troppo brutto per un Teramo che ora fa la conoscenza con l'ultima casella della graduatoria, quella che manda direttamente tra i dilettanti. La rimonta è ormai un'impresa disperata. Teramo ultimo in classifica con l'Ancona a 24 punti, in virtù della vittoria dei biancorossi abruzzesi nella gara di andata giocata al Bonolis, in classifica all'ultimo posto. C'è proprio la formazione dorica, ma questo cambia poco perché Teramo e Ancona chiudono la graduatoria con 24 punti. Vediamo anche i risultati da questi tabellini del centro, delle altre partite. Fano, Ferralpi Salò 3-1, dunque Fano che lascia l'ultimo posto, Maceratese-Reggiana 2-1, Mantova-Parma 1-1, altro risultato che non ha sicuramente sorriso al Teramo, poi Padova-Sant'Arcangelo 2-0, Pordenone-Sud-Tirol 1-0, San Benedettese-Bassano-Virtus 1-0, Venezia-Modena 1-0, Forlì-Lumezzane 1-3, altro risultato indigesto per i tifosi teramani. L'unica nota lieta, se così la possiamo definire, è la sconfitta dell'Ancona al Barbetti di Gubbio per 3-2. Gubbio che si era portato all'inizio in vantaggio per 2-0, poi il ritorno dei Dorici 2-2 e poi il 3-2 definitivo per la formazione Umbra. E noi andiamo adesso ad ascoltare al 91esimo le impressioni del tecnico del Teramo Ugolotti al microfono di Ania Cantagalli. Mister, un Teramo troppo brutto per sé, è vero? Di certo ci si aspettava qualcosina in più quest'oggi da una squadra che comunque deve salvarsi. La partita è stata equilibrata, io tornerò a vedere, abbiamo cercato di fare il primo tempo con i nostri problemi, perché sappiamo che abbiamo qualche problema, però i ragazzi hanno tenuto bene, non abbiamo mai concesso niente, è una squadra che di solito in casa ha sempre fatto molto bene. Abbiamo pagato la solita ingenuità e questo dispiace, dispiace perché poi alla fine facciamo fatica a costruire qualche cosa e di conseguenza se continuiamo a prendere gol sulle situazioni di gioco da fermo è normale che lì è una questione di attenzione, sono momenti che decidono le partite. Questa è una partita che onestamente, almeno dal mio punto di vista, non ho visto una squadra nella nostra che ha sofferto. Non ha fatto forse la migliore partita, però non ha fatto neanche la peggiore. Rimangono le difficoltà nell'essere propositivi in avanti, quest'oggi solo un tiro in porta da parte di Spighi nel primo tempo, come si può fare per migliorare? Bisogna lavorare di più, cercare di cambiare qualche cosa, cercare di migliorare sicuramente la condizione di molti giocatori, soprattutto lavorare sulla testa, perché penso che questa ennesima battuta d'arresto moralmente dobbiamo ritirare sulla testa, perché abbiamo un'altra partita, il calcio offre sempre la possibilità di tirarsi su, il percorso è ancora lungo, sapevamo che era difficile, ce lo stiamo complicando e dobbiamo un attimino rialzare la testa. Percorso complicato per l'appunto, come ha detto lei, la situazione adesso in classifica si fa sempre più difficile. Ma non era carina neanche prima, ci eravamo un po' illusi che forse dopo due partite aver fatto quattro punti il percorso adesso è normale, che se continuiamo a commettere determinati errori diventa dura, dobbiamo dare qualche cosa di più a tutti, questo è normale. Queste le dichiarazioni di Ugolotti al 91esimo della gara, giocata a Bergamo con l'Albinole F, Teramo che tornerà a giocare in casa nel prossimo turno, ospitando il Gubbio. Passiamo alla Serie D, ieri giornata di riposo per il campionato, con però a tenere banco all'Aquila la vicenda tifosi società, tifosi che dettano la linea e chiedono chi o di fuori. Squadra al Sindaco, l'Assemblea dei Sostenitori dell'Aquila incalza il Presidente, a zeramento totale per ripartire senza vecchi personaggi. Questa è la richiesta dei tifosi rosso-blu. Siamo alla pagina relativa al campionato regionale di eccellenza, andando a vedere i risultati della giornata di ieri, campionato sempre molto interessante e anche equilibrato sia in testa che in coda. Acqua e Sapone, Penne 2-4, Capistrello, Angolana 0-4, Martinsicuro, Cupello 0-0, Miglianico, Montorio 2-1, Morrodoro, Francavilla 1-1, Paterno, Nero Stellati, Pratola 1-0, Riverchieti, San Buceto 1-2, San Salvo, Alba Adriatica 2-2, Virtustera, Moamiternina 2-1. Vediamo le posizioni di testa con il Martinsicuro che rallenta, ma è sempre primo a 57, il Paterno è dietro a tre lunghezze, 54. Poi Pratola 53, Francavilla e Angolana 51. In coda all'ultimo posto c'è la Virtusteramo con 23, Montorio 24, Amiternina 25. Poi a 28 troviamo la coppia, Morrodoro, Penne. Siamo al campionato di promozione, il Real Giulianova vola a più 11 e vede l'eccellenza. I ragazzi del tecnico Piccioni passano per 2-0 a Notaresco contro il Ponte Vomano, le reti di Del Grosso e Di Paolo. La Torrese perde invece in casa con la nuova Sant'Egidiese, dunque il Giulianova vede sempre più vicino il traguardo della promozione in eccellenza. E' proprio in promozione, ma passando al girone B, il Chieti Torrealex infila un'altra vittoria per il salto in avanti. Dunque anche in questo caso è iniziato il conto alla rovescia per la promozione dei Teatini in eccellenza. Ieri 4-1 il risultato, la vittoria contro il Villa 2015. L'altra squadra che sta facendo bene in questo campionato, però è distanziata dal primo posto, è lo spoltore che è passato per 3-1 sul campo del Raiano. Possiamo andare a vedere anche dal messaggero le pagine che riguardano il calcio di Lega Pro e di eccellenza. Abbiamo già visto i titoli che riguardano il Teramo. L'Aquila, i tifosi chiedono piazza pulita. Abbiamo visto anche dalle pagine del centro. E poi il campionato di promozione del grosso trascina il Real Giulianova alla vittoria. E abbiamo visto come la promozione dei giallorossi sia ormai ad un passo. Lasciamo il calcio e parliamo di volley. Restando sempre sulle pagine del messaggero, sfatato il tabù esterno, la SIECO sbanca Cantù e dunque praticamente tocca con mano la salvezza. Ortona fino a ieri non era mai riuscita a vincere in trasferta. Nel pool salvezza, agguanta il secondo posto solitario. Se il campionato fosse finito oggi sarebbe salva. Mantova, proseguiamo. Siamo alla pagina che riguarda il basket. Smith e Sherrod da Oscar. Gli Sharks vedono i play-off. Parliamo di Serie 2 maschile con Roseto che batte per 88 a 81. Mantova, vediamo invece l'altra squadra abruzzese. La Proger, treviso troppo forte, ma la Proger fa una brutta figura. Ora la squadra teatina, ma in partita, perde 80 a 47. Davvero una serata da dimenticare per i biancorossi teatini. Torniamo in questo ping-pong tra centro e messaggero al centro per andare a vedere proprio la pagina che riguarda. Prima il volley, poi il basket. Ripartiamo dal volley. Serie A2, pool salvezza. La SIECO sfata il tabù trasferta. E seconda, come detto, 3 a 1 in casa dei Lombardi, dei Brianzoli, del Cantù. Vediamo anche i set. 24-26 in 26 minuti. 25-19 in 26 e 22-25 in 26. E poi siamo al basket, anche in questo caso. Roseto, grande prova sulla strada dei play-off. 88 ad 81 con Mantova. Chieti, che batosta. Serataccia a Treviso. Treviso che si impone, lo abbiamo visto anche prima, sul Chieti per 80 a 47. Vediamo anche la classifica che vede. Il Roseto ha 28 punti in zona play-off. Il Chieti è penultimo con Limola a 18 punti. Sono però staccate all'ultimo posto. Forlì e Recanati con 12. E siamo al basket di Serie B. Amatori KO a Venafro. Furia di Fabio. Il Presidente non le ha mandate a dire ai suoi ragazzi. Pescara ha battuto per 73 a 59 sul campo dei Molisani. Il Presidente dice una prova imbarazzante. Prenderò provvedimenti. E poi vediamo anche le altre abruzzesi. Ortona che vince. Conquista due punti importanti con il Monteroni. 91 a 69. Campli fa ancora festa. Formazione camplese che supera il dislancio per 71 a 52. il Porto Sant'Ilpidio e quella con i Marchigiani è stata la nona vittoria casalinga. Giulianova che tonfo invece battuti i giuliesi pesantemente sulle parchee del Val di Ceppo di Perugia. Per 81 a 44. E sconfitta pesante anche per Teramo che è stata battuta per 91 a 63 in casa. da Forlì. Possiamo andare ancora avanti. L'ultima pagina riguarda il rugby. All'Aquila, l'Ital Rugby a 13. Travolge la Grecia. Azzurri trascinati dal pubblico del Centico Lella nel match internazionale di League. Mattatore il nero-verde rettagliata che ha messo a segno ben 4 mete. Poi per il Paganica Sicilia Mara, lo avevamo visto anche prima nella prima parte dalle pagine del Messaggero. Sicilia Mara per gli Aquilani del Paganica nel recupero della dodicesima di Serie B con la sconfitta. Per 26 a 13 con l'Amatori Messina. Siamo così giunti al termine del primo appuntamento della settimana con Mattino 6. Che come sempre tornerà domani puntuale alle 7. Io ringrazio Gianni Dareo in regia, ringrazio voi per averci seguito. Vi do appuntamento alla prima edizione, come sempre, del nostro telegiornale TG6. Prima edizione alle ore 14. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.